Sono in gioco e non ho perso niente, no, tu devi dire, visto che sono uno dei pochi giocatori che sta giocando stasera perché nessuno ce la fa, a chi ringrazio? A te? Gear, vediamo che ci troviamo qua, allora, io sto registrando Aspetta Carlo, ascolta quello che faccio io Allora, allora, in basso a destra c'è cancel, lo vedi nella menu dei server che è vuoto? Lo vedi? No Quando sei nel menu dei server, quello che non ti dà i server, benissimo, lo vedi che in basso a destra c'è cancel per uscire dal menu dei server? Sì Ah, un po' più a sinistra c'è un'opzione, vero? Si è vuoto Benissimo, cliccaci Benissimo, e ci fai lì, ctrl v e ci copi tutta quell'indirizzo Sperando che tu l'abbia copiato, benissimo Ora, cancella 2332, quello finale, e i due punti Cancella quello che ci sta invece nella porta e ci scrivi nella porta 2332 e dai un ok Allora, sì, vede, quando hai fatto il copio ti sarei mangiato un numero all'inizio Perché fare un copio e incolla a te prende, minchia, uno sforzo che è sovrumano, e lo capisco Ma tu devi capire pure che io ti sto venendo a picchiare E che non ho torto C'è qua qualcuno che mi dà torto? Io voto col senso Hai visto? Ho già notato Allora, ti posso dire cosa che è successo? Si Non so che cosa è successo Quando facevo copia e incolla, infatti già mai era proprio il problema Mi staccava e poi scriveva quello, non capivo il perché Va bene, non ti preoccupare, dai Meno male che ci sono io che ti faccio la papà No, 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 no e no No Che è successo? Oh no, no, no Io sono sul server e non ho nessun problema Grazie, sto giocando Io sto giocando Grazie a chi? Grazie a te Carlo Grazie a te, eh, ecco Quindi, abbonatevi al mio canale Mettete, cliccate, mi piace Io da ora che lo faccio Io da ora che lo faccio Oh, oh, sì, sì, non ci posso credere Che è successo? Non ci posso credere, non ci posso credere Non ci posso... Che è successo? Ho trovato forse un buon backpack Non ci credo Ma va a cagare 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 Ma te l'hai capito dove sto io? Cioè, la fai arrivare lì Un secondo, prima dove stai tu Che io, un istante, gioia mia Fammi vedere i giaccarri Riprendere sto bagnota Sto backpack Che sono con una makarov Che l'ho trovata ora a ora E tanta voglia di piangere Scusatemi Scusatemi Come si fa Con quale tasto si accende Si spegne la torcia? Se me la metto Quelle Belle Ti ho provato Non si accende e non si spegne Ragazzi, se fate un po' di silenzio Perché io sono comunque a Cerno Devo prendere sto backpack Che siccome c'è il bug al solito Che bisogna raccogliere tutto quello che c'è davanti Se no, quel cavolo Oh Take Alice Pack Grazie a Dio Sono commosso Un istante Hai capito dove siamo Drop Drop Se mi dici un punto di incontro Ci possiamo pure incontrare Nonna Balota Un secondo Punto di incontro Come se mi toccano zombie O nel paese delle meraviglie Non è possibile che per avere uno zaino Devo togliere tutta l'immondizia La terra intorno a sto zaino Perché ho 5.000 di sangue Si, l'ho capito che ho 5.000 di sangue E' attenzione che c'è qua una luce Vedo Lo so, mi diamo mazzone di sfalla Mentre raccoglio queste emulizioni Si, c'è una luce C'è qualcuno fuori Ma, Carlo Ma questo è l'unico Vedo che va bene Silenzio ragazzi Silenzio Perché qualcuno è la costruzione davanti Non voglio crepare Come sono morto D'altro gioco Luce, zombie vicino Se sei accanto Vorrei capire Dov'è sta luce Silenzio, silenzio Aspettate che c'è qualcuno C'è qualcuno La sotto Va bene E qualcuno La sotto Oh Un Lee Enfield E c'è qua Un altro Alice Park Pazzesco Io perché ho un M9 Un altro Alice Park Brancetta Partiremo No Eh va bene Ormai non c'è Quando domani L'uomo Un'altra Una brosidromia Ehm Ehm Per giocare Cioè per giocare Come crede C'è solo questo O Vanno bene Anche gli altri Cioè perché io adesso Sto cercando Di entrare Se un altro server Ma mi dice Che non ci sono Di fatto Cioè non Non me lo trovo D'entra Di entrare Una volta Scusa Cioè non Sono avvistato Scusa D'entra 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 Scusa D'entra 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 Ora c'è l'etica. Ora c'è l'etica. Non c'è un altro. Tutti qua sono. Mi guardate? Qualcuno mi guarda per fortesimo. Non c'è un suo server. Perché in quell'epoca... Carlo. Ma da me c'è un HPS bello per te. Lo prendo. Sì, quello che è. L'HPS lo vuoi? Prendi quello che c'è. Tanto io opero non li è in filo. E non lo vuoi per te? Sì. Preferisci gli è in filo? Non lo so. Ma è proprio tu che sta qua. Dove ne ho? Mamma mia c'è una mano per terra. Questo di qua è paurosissima sta cosa. Una mano che... C'è una mano che è zbucata dal muro. Non lo so. E' un po' di più. Non lo so. C'è un po' di più. Grazie a tutti Ciao Carlo Io avevo un piano Io avevo sto piano Io avevo sto piano Io avevo di trovare delle pete E faccio una base solo per noi Capito come? Allora Tu sei abbalato ha detto no? Sì sì Ok io sono uscito da qua Quest'altra che forse c'è un nemico La sotto non lo so Devo stare attento perché qua No non c'è nessuno Figlio mio Allora tu mi devi dire Io sono in mezzo a torcia illuminata Capito? Non mi puoi dire non c'è nessuno Che io vedo le torce No ho capito che tu No balota non è un problema Il problema non è balota Il problema è qua Arrivarci a balota vivo Cazzo dove sto vicino? Sto devi andare al mio Mamma mia L'erano zombie Lì hanno buttato un flare addirittura Ma in che zona a calcularlo? Scerno Ok E c'ho un flare lanciato proprio Sono sotto la centri Gli animali girano gli noti Gli animali girano gli noti Che domande sono? Stai giocando tu? E allora certo che gli animali girano gli noti Neanche gli insulti mi capisce Cioè non me ne dai soddisfazione Che non me ne dai Io qua neanche sto andando verso le montagne Verso il mare Credo che sto andando verso le montagne Sto cercando di allontanarmi dal cielo Tu sei all'airfield Hai detto? Sì all'airfield Quindi è più vicino alle montagne In che senso? Stanno dietro le montagne Sta vicino le montagne Sì sì Ti pare in quell'airfield Un piano che ci sono andato E' stato quando giocavo da un giorno E se vieni c'è pure qualche buon'arma Dico che posso dare Io mio non è bestia Sto cercando di arrivarci Non ho bussola Non ho niente Ho scarsa conoscenza O nulla conoscenza del territorio Spiego? Sì sì Ok Comunque spalla al mare a sinistra Lo sai che non ti lascio Nella Ah sì lo so Allora Ora quello che devo capire io è Z Qua Cosa vedo? Vedo una Due torri qua Un secondo solo Scusami una domanda Se tipo prende la torcia La pistola dove va? Ah non l'avevo Non l'avevo registrato Non l'avevo registrato Oh ok Nella vittata dall'ospedale Un certo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, l'ho ammazzato e mi ero frotto un po' le palle. Ok. Allora, quindi detto che tu sei dietro il muro dietro l'Airfield. Mi sono spostato, praticamente in quelle casette piccole che stanno pure all'aeroporto che prende, trovi raramente qualche munizione. No, 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 tu mi fai impazzire. Allora ti dico che non conosco la zona che non ci sono stato da dieci anni e ti muovi da dove come sono riuscito a riconoscere. Allora ti dico, è facilissimo. Agli hangar, alla destra, sono strutture piccole. Capito? È sempre lì. Hai contato quante persone c'erano sul server? Poi pochissime. E ci... Tre mie a te. Comunque io ho questo progetto, se ti interessa o no, mi fanno. Io volevo trovare, cioè, trovarci un server che ci piace e funziona a tutti. Poi troviamo due tende, dico due tende così, e un veicolo. E ci facciamo tipo una specie di base in un posto magari dove più che altro tu sai che non passano molti giocatori. Capito? Sì vabbè questa è facile di guida. Facci di guida. Facci di guida. Ogni tanto andiamo a fare guardazione all'erfig senza munizio, senza niente. Quindi accattiamo il tutto e lo mettiamo a posto. Se uno di noi muore, cioè c'è l'inventare subito fatto, per schifare lì, pianare, ma il caricatore, qualcosa a mangiare, è pronto. Vedo? Sì. Ovviamente mettiamo record. Chi prende un'arma avverte prima, chi prende i caricatori avverte prima. Allora, io qua sto correndo ancora da un bel po', non ho incontrato niente. Reazione? Eh... Ovest. E poi ti è passato sulla costa, cioè dovresti... Te dove stai passando, scusa? Io sto passando sulle montagne, sulle colline, perché mi ricordo che non era proprio sulla costa, sulla costa. No, 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 è più... Più interno, no? Sì, no, non tanto più interno, cioè... Cioè, comunque, la la stagione si vede, la struttura, capito? Dunque, tutta l'est, c'è sempre la costa più o meno vicina. Stanta sola. Allora, ecco, vedo una struttura, è una torretta... Che sembra una torretta militare di quelle tipo quale è, ci sono l'Airfield proprio fuori, vediamo se vuoi dire qua dietro. Sì, sì, vedo gli hangar, vedo gli hangar, vedo gli hangar da lontano. Posso logare? Posso logare? Sì, puoi logare. Sono donna, eh? Non c'ho l'M4. Io ho... L'Enfield sono... Sono donna. E c'è una K dentro gli hangar. Qua c'è, un'isola che c'hanno degli hangar fuori dagli hangar, sai questi capanni? Voglio entrare dentro, vediamo se c'è qualcosa. Capanni, aspetta. Eh, ci sono a... A est, no? Dei capanni pieni di soldati morti. Ah, quelli grossi, specialmente magazzini? Sì, magazzini. Ok. Sono solo... C'è stato poi, c'è stato il hangar. Nel re, niente, da quella direzione, tu dovresti vedere, tipo di piccoli, come si dice. Ovviamente dove trovi, magari, principalmente trovi oggetti vuoti, che non servono a un canno. In istante che non sto trovando niente di particolare, qua dentro il filo spinato è un caspita. Poi dove andiamo di bene, non ce lo sai? No, non ho idea. Un mag per i di Enfield, in un istante che è qua. Putto, posso... Possibilmente mangiò qualcosa. Questo preferisce niente, ci sono altre munizioni. Aspetta, ma te non sarai agli hangariti, quindi è magazzini quelli più a est. Non so, ma è magari. Sì. Adesso andiamo a vedere cosa c'è qua. Che armi c'hai tu? Un di Enfield è una macarofa del cavolo. Ah, ok. Allora, tu quando arriverei qua, avrai una KS, blu camminino e una M9. Ma che c'hai nello zaino? Sì, la KS sta lì per terra. Quanti? C'hanno i caricatori? Sì, sì, qua ne stanno. Più uno che ho buttato io, mi... Allora, io ho i capanni, mi ci sto avvicinando parecchio, eh. Agli hangar? Agli hangar, sì. Scusami. Ok. Facciamo così, io mi trovo nel... Dove tu entri? Da dove arrivi tu, ok? Un secondo, perdonami un secondo solo, perché quello che... Ma che scusa? Allora, io sto entrando... Io sto arrivando, no? Ok. All'ingresso del primo... Del primo hangar a est. A est? Sì. Io sto lì vicino a... Sto correndo, c'è un muro, lo vedo da distante, no? Ora vedrò... Proprio frontale arriverò. Ora girerò il muro dalla parte proprio dell'hangar, quindi non ti spaventare. Sì, ma... Quanti zombie ti porti? No, niente, niente. Ah, perché io... Cioè, mi ti fa subito la trasfusione a me. Sì, 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 non è un problema. Ragazzi, c'è uno zombie in casa in Troglian, un hangar. No, è un problema. Quindi, un po' s'entrata. Tra quanto entri? Tra quanto c'è stato? Eh, ancora un istante, sono quasi dietro il muro, proprio sto per passare ora. Proprio, ragazzi, non aspetta di stesso, guardo, sta torre, vedo. Ci sono molti zombie, devo fare un po' silenzio, silenzio. Quale è la torre, spero? Guardo la torre da qua. Ok, sono passato, ti vedo, ti vedo, sono alle tue spalle. Ah, ok, bello, mi vado la sfusione su. Sì, sì. Entra dentro, sta casa è qui. Ok, la facciamo qui. Questa è la nocce, la nocce. Non c'è stato lo scoperto. A posto, qua fermo. Te la sto dando già. Grazie. Stai lottando, c'è pure la M9, se la vuoi. Ok, hai fatto, un istante che devo buttare a terra una blood bag, che la voglio sempre dire, è bella. Te ne servono blood bag? No, no, io ce ne ho altre. Ok, va bene. C'è una 5. Perché c'è qua terra gear? C'è da mangiare. Ti servono le P-Pen? No, ne ho 2, 4, 6, ne ho. Ah, lì c'ho lo zaino pieno, posso svolare. No, vabbè. Vabbè, darmi un'arma che non ti serve. L'M9, sta dentro lo zaino pieno. Un istante. Open Alice Pack. Sono due caricature. Poi ti posso far evidenziare la KS. Non lo vedo, questo caspita di coso. M9, ne ho zaino. Cos'è la troppo per terra? Open Alice Pack. L'I-M... Vista? Non so perché. Buttalo per terra magari qua, proprio. Te la butto qui, ok? Sì, sì, grazie. Guarda, dove sto mirando io? Sì, sì. Cosa sta? Vediamo. Vedo... Una M9, sì. Sì, si prende. Ti faccio di indossare al caffè. Che buttalo per terra? È una Macarob alle munizioni. Domanda e bende. Bende, sì, pochino, ma ce ne ho. Se vuoi te ne buttano a terra qua. Eh, buttamene una a terra. Eh... Ce ne è pure un'altra dietro. Ce ne è pure un'altra dietro. Cosa? Di bende. C'è un'altra munizione. Di Macarob va di questa munizione qua. Ah, dove si è droppata adesso? Va bene, andiamo, dai. Andiamo? Grazie a la Bissola. Sì, sì, andiamo. E occhio, c'è un zombie barato qui. Un istante, un istante so, poi mi vediamo quanti preci, se no non ce ne sono due, quattro, sei... Eh, è noi. Quindi occhio. Ma vedi un zombie barato? Sì, vabbè, ma... Vediamo un istante che c'è qua dentro. Ma un istante attacca con la mia... E poi l'HPS sta proprio lì sotto. Lo secco? Lo vado davanti nello zombie? No, no, lo spariamo, lo spariamo. Lasciamo la domanda. Che c'è un mitra al piedi? Vediamo un secondo. Eh, c'è un mitra lì sotto. Un istante che lo secco. È lì. Porco tu, io un colpo mi sa che non lo ammazzavo. Cosa? I ne had sciolto io ho fatto, io ho sparato sempre la testa. Ah, ok. C'è, che c'è? Lo vediamo. Li Enfield. Non vedo niente, mi dà solamente un M203H e... Eh sì, c'è pure Li Enfield, ma sta dall'altra parte la KS. Ok? Take Li Enfield Magazine. Un istante solo che voglio vedere se c'è qualcosa qua dentro. KS sta dall'altra parte. Ok. Ok. Comunque ho già controllato io, non c'è scacchio qui. Non corri. No, non sto a correre, non c'è un zombie là, ce ne sono tre. Vai. Dove sta sta KS? Dall'altro angolo lì. Dentro quest'hangar. Ok, ok. Entriamo di qua. Qua c'è un caricatore per... Convenzionali. Eh, per Sanag. Con l'arma che avevo io prima. Sta dall'altra parte la KS. Io ancora qui quando mi rode per il backpack che ho perso. Ho perso il check. Porco cane il check. Il backpack migliore che c'è. Sì, stupi. Quanto. Tira. Aiuto, mi rode, non ti si attaccano. Sì, c'è troppo pure una monica neppi da K. Eh, epipenna ne serve. Cosa? Hai munizioni una K? No, l'ho droppata da una parte. Ok. Guarda un po'. Quante munizioni ci stanno? Dove? Nel tuo backpack? Sì, c'è troppo. Minchia, non sto tenendo un epipen e non una morfina con me, ma sono un... No, 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 non me ne dai, ma il fine. No, 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 non lo sa, io sto dicendo sono un piede, a me stesso. Prende, io a te, la medicina che c'erano, stanno a posto per la paola. Comunque sulla torre non c'è niente Se vuoi andare a controllare Oppure possiamo fare una cabina al campo medico Lì trovi munizioni a K Sinceramente io preferirei trovare Due cecchini per noi Che dici? Ci serve trovare i cecchini Però i cecchini penso che qua si possano trovare Se ci sono qua che c'è qua sotto? E no, l'ho controllato tutto C'è niente di importanza Munizioni Aspetta, forse una munizione a K Non qua C'è una ceppa Qua non c'era un ospedale Nelle vicinanze? No Però se non possiamo andare ora che ci penso C'era mi ricordo delle... Carlo vogliamo andare a Zelenorosk? Quella città... Quella città isolata Sono dentro il container di metallo Zelenorosk E che c'è in quella città? Supermercato Caserma di guampieri Ma è... È vicino? È vicino? Sì, dobbiamo andare a est E poi dobbiamo salire un pochetto a nord Allora, un secondo Fammi vedere la mappa Ciao a tutti Ciao a tutti